Italia 1! Tutto Sport e Tutto Sport presentano Amore Bianconero, un'imperdibile collana di 10 DVD che aiuta al progetto crescere insieme al Sant'Anna. In edicola da lunedì 30 aprile Alessandro Del Piero ha soli 9,90 euro più il prezzo del quotidiano. Aiuta anche tu al bambino di Sant'Anna. Poche cose hanno cambiato la storia dell'umanità. Guardate! Inizia l'era dei sofficini, che mozzarella! Tutta la bontà della mozzarella in una croccante panatura, sofficini, che mozzarella! Come facevamo prima? Attenzione, se avete qualcosa da fare, fatelo in fretta, perché questo spazio pubblicitario terminerà tra 25 secondi. 24, 23, 22, siete ancora lì davanti? 20, 19, ma non avete proprio nessuna urgenza? Un desiderio? Una telefonatina? Un panino? 10, 9, 8, ma che vita avete? 5, 4, 3, 2, 1, finito! Perché bevi Brio Blu te? Perché è un periodo sfortunato. E allora? Mi sono comprato questa bottiglia. Fresca? Sì. L'hai bevuta? Sì. Cambiato qualcosa? Eh, un po'. Perché? A me è gusto, è bole. E quindi è beata prezzantezza? Molto. Lo sai che è lucchetta? Eh, lo sospettavo. Ma cosa pensi quando bevi? Ai donne nude. Brio Blu? Mi piaci tu. Tutto bene? Sì, grazie. Cominciamo bene? Sono sicura che proseguirà meglio. Signore, si è liberato un posto in prima classe. Sì, in prima classe. Ok. Viaggio comodo e nel lusso. O ci provo? Solo tu puoi scegliere quel che è giusto per te. Le scelte fatte da Bex l'hanno resa la tedesca numero uno al mondo. La vita è quel che scegli. Ferrari 360 Challenge radio comandata. Scala 1 a 5. Motore due tempi a benzina. Un cuore di pura tecnologia. Scatena la tua passione. Ferrari 360 Challenge. In edicola soli 4,95 euro la prima uscita. De Agostini. Il 6 maggio è la giornata nazionale della raccolta differenziata. Insieme a Conai fa che il 6 maggio sia tutto l'anno. Il mio mestiere è fatto di storie da raccontare. Incontri miseria, gioia, dolore, solitudine. Quando trovi una storia la prima cosa da fare è capire, entrarci dentro. Dai cortili delle periferie alle baracchie fino ai palazzi del potere. Poi raccogli tutto e porti la storia in casa delle persone. Incontri gente, situazioni che ti cambiano un po' dentro. Cresci facendo la cronaca. Più di quanto vorresti. E eccoci insieme, ben ritrovati. Controcampo, diritto, diretti.